BOOM! BOOM! Boys, bentornati su Officina del Pilota! Questa è una storia vera! Giuro di dire la verità, nient'altro che la verità! Senti che cosa mi è successo con questa X3 che è stata forse... no, forse, è stata proprio una macchina sfigata però a me piace e me la son tenuta! Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota! Questa è una storia vera e alla fine del video raccontami se ti è capitata una cosa analoga o una sfiga tale! Era il 2016, un bel periodo! I gemelli avevano già due anni! Come regalo di nozze, tanto per rimanere in tema auto a mia moglie avevo regalato una classe A del 2012! Passano 18 mesi dalla cerimonia e d'improvviso, durante una notte di primavera si sente un botto fuori casa mia! BOOM! Mi alzo di soprassalto, esco fuori dal cancello in pigiama ovviamente! Classe A andata! Caput! Non si sa chi l'aveva presa in piano con un'altra macchina ed era scappato o scappata non si è mai capito se fosse un uomo o una donna! Ti aspetti che so, un biglietto sul parabrezza Sai, ti ha distrutto la macchina questo è il mio numero di telefono Figurati anche no! Entità del danno causato da ignoti Oltre 3500 euro aveva preso in pieno il retro treno la macchina era praticamente a forma di L Ehm... Decidiamo di cambiare auto Moglie! Prendiamone una più grande per viaggiare più comodi siamo in quattro più due cani canetti cani piccini Vabbè sempre cani sono Quale ti piace amore? Quale mi piace? C'è una lista di tre pagine Ehm... A me piace Ferrari F40 BMW M3 CSL Porsche 911 993 L'ultima raffreddata d'aria Ma che c'entra? Per la famiglia! Ah per la famiglia C'è un'altra lista qui Lamborghini Urus Mercedes GLE 63 S Mercedes G550 G550? No dai Basta scherzare Una che sia un po' alta Che non puzzi di benzina quando scendi dalla macchina E la serie della Subaru fa quella cosa Ehm... Morale della favola BMW X3 La troviamo a 23.000 euro più passaggio Finanziamento per quattro anni Faccio dei sacrifici Però almeno giriamo con un'auto che ci piace Quella che ci piace La compro in una piccola concessionaria plurimarche a Roma Si guida da Dio Comoda Sicura Tutto bello Io felice Anche moglie felice Ti sedili vinaccia Insomma è proprio una bella macchina Passano otto mesi dall'acquisto Arrivano le grane Premesso che io sono un maniaco Dei... della manutenzione Dei tagliandi Di cambio olio Insomma ci tengo Un giorno mentre stavo guidando Sento un rumore brutto Un rumoraccio Rumore sinistro Tipo ma tipo... No questo ma io non lo faccio Una cosa del genere Ancora me la ricordo No te 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 Batteva in testa in poche parole E mo che? La porto subito dal meccanico Della concessionaria plurimarche Che me l'aveva venduta E lui mi fa Ponte occupato Ripassa Come ripassa? Sento che batte in testa Vorrei fare chilo Non hai capito Il ponte occupato E scusi Ci vediamo Non perdo assolutamente tempo Vado direttamente in BMW Roma in via salaria Passano due giorni E ricevo una telefonata Driii Si pronto? Si signor Torisi Si è BMW Roma via salaria Senta la sua macchina Il motore è rotto E' saltata l'ultima bronzina di banco E' fuso il monoblocco Che cosa? L'avevo intuito Però ovviamente Non ci volevo credere Il motore è da sostituire Sono 12.000 euro di pezzi di ricambio Esclusa mano d'opera Raga adesso mi viene da scherzare Ma in quel momento Mi tremavano le gambe Cioè non sapevo più dove guardare Se a destra o a sinistra Se dare direttamente una capocciata al muro Era fuso il monoblocco Che faccio? Inizia un periodo nero Dal quale ad oggi Ancora non siamo usciti La prima cosa che faccio Chiamo la concessionaria Che mi ha venduto la macchina E gli spiego la situazione Mi dirottano verso un'assicurazione Che avrebbe dovuto tutelarmi Se fosse successo qualcosa Alle parti lubrificate In questo caso il motore Mi sembra una parte lubrificata No? Poi dopo la concessionaria Avendo capito l'entità del danno Cominciano a rispondere più al telefono Mi trovo costretto Passo per vie legali Suppongo Sappiate cosa comporta Passare per vie legali Avvocati Perizie Perizie giurate Sciacalli Tanti soldi spesi Tempo perso Meccanici Un calvario insomma Nel frattempo siamo a piedi Faccio fare sotto consiglio dell'avvocato Una perizia giurata al motore Con data di registrazione Così al di là del fatto Che in futuro mi rimborsino O meno il danno La riparo a spese mie E posso accompagnare i bambini all'asilo BMW riparata Motore nuovo Fattura in mano Spendo 14.000 euro Quanto è vero Non se sa chi che me pozzino C'è camme Tra la sostituzione del motore E l'auto sostitutiva Punto Ho speso quei soldi lì Con quei soldi Me ne sarei comprata un'altra Considerato anche il fatto Che nel frattempo Ogni mese Pago 465 euro Del finanziamento delle 48 rate ovviamente Sono passati 3 anni e 4 mesi Da quando si è rotto il motore E ad oggi ancora non ho visto un euro La burocrazia italiana Dopo poco aver comprato la macchina Ho fatto subito un tagliando Ero tutto in regola Tutto a posto Ero comunque nei 12 mesi di garanzia Quindi teoricamente tutto a posto Però pare che comunque in Italia è così Nota positiva ad oggi Questa di marzo per fortuna è la 48esima rata Quindi sto per pagare l'ultima rata E avrò finito il finanziamento Questa sì che è una nota positiva eh Ma quanto mi è costata sta macchina? Con gli stessi soldi mi facevo un GTR Dimenticavo Andando avanti con la causa Abbiamo scoperto che la BMW X3 Non aveva mai effettuato un tagliando ufficiale Prima dei 68.000 km Risulta un tagliando in casa madre a 68.000 km Per cui è già tardi Da 0 a 68.000 km Un 3.000 e 6 cilindri Con 258 cavalli L'ultima bronzina del banco viene inrorata poco Dall'olio E' normale che si rompa Non ci sono Non ci sono Fatture che dimostrano che la macchina Abbia effettuato un tagliando Prima dei 68.000 km Questa dovrebbe essere una nota positiva Per lo meno per dire Ehi giudice Ehi Mi dovete ripagare Ok? Ma ancora niente Quindi io l'ho preso Che aveva già un vizio occulto E nonostante tutte le cure Tagliandi eccetera eccetera Il motore è collassato Per non farci mancare nulla Circa un anno fa La BMW è stata vandalizzata Praticamente a 360 gradi Grazie a Dio avevo gli atti vandalici Quindi l'ho riparata Dopo essere stata riparata Per lo meno te la vedi tutta bella verniciata Sei tutto contento Passa una settimana E mia moglie va a fare la spesa Un carroattrezzi passa Boom Prende il paraurti posteriore Anch'esso scappa Va di moda Va di moda qui Da queste parti fare questa cosa Però Attenzione Un'anima pia Che ha visto tutto Rimane a fianco alla macchina Aspetta che mia moglie Esce E dice Signora guardi È appena successo questo Le hanno fatto questo dato alla macchina Io ho anche preso la targa Ma chi te manna Ma tu sei un Te sei un'anima pia Denunciato il carroattrezzi I soldi di quello L'abbiamo preso Vabbè pochi Tipo 300 euro Però meglio di niente Ragazzi non bisogna mollare A noi sta macchina Piace Morale della favola Adesso è sporca È trascurata È stata maltrattata L'ho appena portata a fare l'ennesimo tagliando Sono stati fatti Dischi e pastiglie Ho cambiato gli pneumatici Da poco lo vedrete nel video Che sta per arrivare E mi sono occupato di lei Ho sistemato tante cose Ed è tornata a splendere È una macchina che ha 200.000 km Anche se il motore ne ha 45.000 km Però sembra Sembra tenuta molto bene Sotto il cura di ufficiale del pilota Questa macchina è tornata a splendere Perché a me e mia moglie Piaceva L'abbiamo scelta Ci piaceva una macchina Ci piaceva quella macchina E ce la vogliamo ottenere Finchè campa Adesso c'ha anche il motore nuovo Sperando che vada bene Tiè Facciamo le corne Comunque ragazzi Questa è in assoluto La macchina più sfigata Che io abbia mai avuto Ho seriamente pensato Di darle fuoco Di buttarla nel cesso Di tirarla giù da un burrone L'ho odiata Con tutto me stesso Ma comunque è stato più forte L'amore nei suoi confronti Tanto è vero che adesso È tornata a splendere È bellissima Mi sono fatto anche un giro Adesso ve lo vedete E c'è un motore che Comunque va forte È una bella coppia 258 cavalli È una macchina prestante Nonostante il peso Molto spaziosa È da paura Quindi ragazzi Buona visione Ci vediamo tra poco È una coppia incredibile 0-100 in 6 secondi Netti 3.000 in linea Biturbo 258 cavalli Spinge che fa paura Macchina pesante Ma il motore eroga Una potenza notevole E la fa spingere bene Preserva Preserva dei coll하면서 Questa Amore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La peggiore in assoluto che ti è capitata con le macchine, quella che ti ha lasciato proprio l'amaro in bocca perché non mi va di sentirmi solo al mondo in questa storia, anche se già so che sono successe cose anche peggiori ad alcuni amici miei. Allora qui sotto nei commenti fammi sapere qual è la tua peggior storia con una delle tue macchine. Ragazzi c'è Spodano che sta in quarantena, adesso vi metto un ricordino qua che vi saluta tanto e ci stiamo occupando della Clio Williams da casa cercando gli ultimi pezzi che mancano, poi si parte col progetto. Quinto giorno consecutivo di quarantena sono a casa da solo, la casa sull'albero. Mi sono rivisto tutti quanti i video di Officina del Pilota, il mio preferito è quello della Clio Williams, se non l'avete visto andatela a rivedere. A proposito di Clio Williams, stiamo cercando i pezzi che ci mancano, in particolare il portellone posteriore e i fianchetti anteriori. Vedremo se riusciamo a salvare entrambi i sedili o comunque servirà di acquistarne soltanto uno in più nuovo. Continuate a seguirci sulle nostre pagina Instagram, Officina del Pilota e sulla mia pagina personale, Luca Spadano. Cerchiamo di rimanere tutti quanti uniti in questa community virtuale, rimanete a casa, non uscite e spero che ricorderemo questo momento facendoci due risate tra qualche giorno, tra qualche settimana. Vedrete che tutto andrà alla grande, quindi seguite Officina del Pilota. Ciao ragazzi, ciao! Ah, da solo, che noia, oddio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!